Ben ritrovati cari amici, eccoci qua con il nostro intervento quotidiano che ci aggiorna sulle cose di Milano e di mercato. Naturalmente sono tutte voci, indiscrezioni, noi facciamo come sempre un'analisi più che un reportage di quelle che potrebbero essere le notizie e quello che è certo è che Romero se n'è andato. Romero va in prestito all'Almeria in Spagna, l'Almeria è la squadra che ieri ne ha subite di ogni dal Real Madrid e quindi va in Spagna e se giocherà potrebbe essere una buona soluzione. Teniamo conto che l'Almeria è una squadra di gran crisi e l'unica squadra dei principali campionati europei a non avere ancora vinto una partita, ci stava quasi per riuscire a Madrid prima dell'intervento del VAR e degli arbitri e insomma vediamo quanto spazio potrà avere questo ragazzo che da noi non ne ha trovato molto, è apparso molto acerbo nella sua conduzione, nel modo di stare in campo, di giocare con gli altri, insomma più o di qualche occasione gliene è anche data, qualcosina ma mi pare che sia un po' lontano ancora dagli standard di un campionato come quello italiano dove comunque insomma il livello è alto e devi essere capace di giocare con la squadra, non puoi fare tutto da solo, non puoi correre sempre a testa bassa e il ragazzo deve crescere e deve crescere molto, quindi si è deciso questo prestito, evidentemente si è fatto un test dopo l'arrivo a parametro 0 la scorsa estate e si è capito che una necessità per lui è quella di andare a giocare, vedremo quanti minuti farà all'Almeria, c'è un altro giocatore del Milan che sembra in uscita, cioè Bartesaghi, si era parlato di Monza per lui a quanto pare andrà al Frosinone, quindi andrà con Di Francesco per questi mesi, io insomma se giocherà, perché poi la questione dei prestiti nostri è sempre quella così in generale, quando dai un giovane a una squadra la speranza, se non dico l'accordo ma insomma la speranza è quella che il ragazzo giochi, cioè che il ragazzo trovi quel minutaggio che con te non può avere e quindi speriamo che Bartesaghi, insomma che sembra un ragazzo molto interessante, possa ritagliarsi uno spazio in Serie A in una squadra che lotta per un obiettivo che è quello della salvezza, Frosinone si è risollevato ieri nella vittoria col Cagliari, ma resta una squadra che può anche andare un po' vicino diciamo alla zona bassa della classifica, quindi esperienza di vita per Bartesaghi se effettivamente come sembra oggi Frosinone sarà. Per quel che riguarda noi, diciamo a meno di dieci giorni dalla fine del mercato, anche se Pioni in conferenza stampa ci ha detto che se ci fosse l'opportunità, se il mercato offrirà l'opportunità, se così secola potrebbe arrivare anche un centrocampista, in realtà i nomi che si continuano a fare sui giornali sono quelli di difensori centrali, continua in questo tormentone, tra virgolette, questo tormentone invernale del Milan alla caccia di un difensore centrale. Il perché di questa emergenza è legato probabilmente un po' alla precarietà delle condizioni di Kier, alla situazione pellegrino, agli infortuni di Ciao e di Tomori, le tempistiche ancora non sono note per quel che riguarda rientro, Tomori dovrebbe rientrare a febbraio e Ciao a ruota, ma forse il Milan vuole tutelarsi cercando di andare a fare qualche operazione perché tra meno di un mese, tra tre settimane, c'è l'Europa League, quindi appuntamento importante, i playoff con il Rennes, Rennes che ieri ha eliminato il Marsiglia dalla Coppa di Francia ai rigori e probabilmente la nostra dirigenza sta pensando di fare un innesto in quel reparto che possa essere magari qualcosa su cui lavorarci la prossima estate in sede di riscatto, infatti si è fatto il nome del solito Cialoba, che è un giocatore in uscita dal Chelsea ormai da sempre, che tutti vogliono e nessuno piglia e questo rientrerebbe insomma nelle tante operazioni che il Milan ha fatto con il Chelsea, ovviamente si tratta di uno dei tanti nomi, poi si è parlato anche di Moukielé, il difensore del Paris Saint Germain, acquistato dall'Ipsia che doveva andare al Bayern Monaco ma non ci andrà, Kicker, il giornale tedesco, ha detto che avrebbe fatto le visite mediche col Milan ma non le ha superate, quando, dove, come, non lo so, io queste notizie così campate per aria, nel senso che, insomma, io credo che giornalisti e attenti osservatori e seguaci del mondo Milan per professione, se c'è una visita medica, a meno che non lo si faccia di nascosto, cioè non lo so se c'è una previsita medica prima di quella vera, diciamo che tutti conoscono, quando vediamo arrivare i giocatori con l'auto, non so se effettivamente sia così. Sta di fatto che lui poteva essere anche un profilo interessante, anche nell'idea di una difesa a tre, un giocatore che, diciamo, ha fatto spesso nella sua carriera al terzino destro, spesso ha giocato a tre, anche a Lipsia, quest'anno ha registrato sette presenze col Paris Saint Germain, quasi tutto al terzino sinistro, o comunque sul lato sinistro della difesa, quindi c'è, evidentemente c'è stato un po' di confusione nella gestione di questo ragazzo e insomma vedremo, ecco, ripeto, non capisco questa cosa delle visite mediche superate, sì, anzi no, boh, non lo so, però ecco, questo profilo, così come quello di Cialobà, così come quello di Buongiorno, del quale abbiamo parlato tanto la settimana scorsa, corrispondono più o meno a, diciamo, gli stessi tratti, quindi un difensore veloce, fisico, che possa anche giocare in una difesa a tre, queste sono le indicazioni che arrivano dal mercato. Soyuncu è un altro nome, Berta, il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, ha dichiarato che Milan e Porto sono in trattative con l'Atletico per il prestito di Soyuncu, difensore turco che si era messo in luce con il Leicester prima di sprofondare tanto quanto la sua squadra e che all'Atletico Madrid ha trovato fin qui di poco spazio. Si tratta di un nome da battaglia, nel senso che, insomma, è un difensore di quelli che non la mandano a dire, certamente ha la sua esperienza anche a livello internazionale, certamente a me quando giocava a Leicester sinceramente non dispiaceva come come difensore, è uno che di testa la prende, la prende anche bene, di testa è anche uno che, insomma, diciamo, la prende male, nel senso che uno che si arrabbia facilmente, uno che si incacchia facilmente, quindi è un po' una testa calda da questo punto di vista, sportivamente parlando, ci mancherebbe insomma. E quindi il direttore sportivo dell'Atletico Madrid si è proprio esposto parlando di lui e dicendo che appunto c'è questa discussione sul tavolo con il Milan e con il Porto per il prestito di Soyuncu. Vedremo se si concretizzerà la cosa, da casa Milan non giungono notizie smentite o quant'altro riguardo a questa vicenda e quindi vedremo. Quello che appare certo e che potrebbe essere un'indicazione anche per il mercato di giugno è che il Milan sta cercando un difensore. Quindi il Milan sta cercando un difensore che possa anche diventare titolare, quindi o Tomorio, ciao, in questo momento, vuoi per le condizioni fisiche, vuoi forse per il progetto che hanno in mente e che noi non conosciamo, potrebbe non essere la coppia del futuro del Milan. Milan sta trovando risultati con tutte le difficoltà difensive, abbiamo dovuto usare Teo difensore centrale, abbiamo dovuto richiamare Gabbia, eppure insomma prendiamo sempre troppi gol, ma lì non è solo una questione di giocatori che giocano in difesa, una questione di assetto di squadra. In ogni caso si sta pensando a quel reparto, vedremo che cosa succederà e quali eventualmente movimenti ci saranno nei prossimi giorni. Grazie a tutti, vi aspetto questa sera alle 18.30, alla compagnia della live.